Abbiamo anche fatto un lavoro di sicurezza integrata attraverso la cooperazione con 66 patti per la sicurezza su tutto il territorio nazionale, ho presieduto 8 comitati nazionali dell'ordine della sicurezza pubblica e abbiamo lavorato anche molto per quanto riguarda la violenza negli stadi. La violenza durante le manifestazioni sportive ha fatto sì che tanti nostri amici, tanti nostri familiari, tanti nostri cittadini, credo che ciascuno di noi abbia amici, familiari o conoscenti che hanno rinunciato ad andare alla partita e che hanno fatto una scelta, quella proprio di non andare più a godere della bellezza di una partita di calcio, di una manifestazione sportiva. Ecco noi oggi possiamo dire che abbiamo approvato un decreto sugli stadi che ha rappresentato un elemento di miglioramento della situazione generale. Io vorrei dirvi alcuni dati che mi sembrano molto importanti. Noi abbiamo avuto nell'anno, voi sapete che il campionato di calcio è sottoposto durante l'anno solare a un'interruzione estiva. Ecco, durante questo nostro anno 2015 abbiamo studiato la evoluzione dal vecchio campionato, quindi quello che si è concluso in primavera, con quello che è appena cominciato. Nell'anno 2015 il campionato che poi è andato a concludersi in primavera ha visto diminuire gli incontri di calcio con feriti, soprattutto relativi alla serie A, con una diminuzione del 17,9%, una diminuzione del 21% dei feriti tra le forze dell'ordine, mi riferisco sempre alla serie A, una diminuzione del 23% tra i civili, sempre tra i feriti e una diminuzione del 66% dei feriti tra gli steward.